Amici e amiche salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Mi dovete scusare se non ho pulito la smediatrice oggetto del video ma come diceva una pubblicità di qualche tempo fa chi ama queste cose le tratta così. Io in realtà quando finisco il video ora la devo tornare a usare perché sono due mesi che l'ho comprata, la utilizzo oserei dire quasi quotidianamente e ne sono assolutamente felicissimo ragione per cui mi comprenderete che tra un lavoretto e l'altro ci sta fare un video al volo e veramente venirvi a testimoniare come mi ci sto trovando. Vi dicevo l'ho acquistata due mesi fa, già ho fatto, ve l'ho presentato in un unboxing, ve l'ho presentato anche qualche piccolo test di come va di come si confronta con le batterie da 5A che sono in dotazione. In questo video vi vengo a manifestare quello che è un pochino la totalità delle sensazioni che ho ricevuto e ricevo quotidianamente dall'utilizzo di questo utensile. Costato a dire il vero non poco perché siamo nell'ordine dei 300 euro per ciò che vedete su questo tavolino ma la soddisfazione e il piacere di utilizzo anche in lavori abbastanza pesanti e complessi è assoluto. Ho utilizzato in precedenza sia smerigliatrici a 220 che a batteria ma devo dire che confrontate alla DeWalt non ci sono uguali. Forse sicuramente, anzi con marche evolute tipo Milwaukee, tipo Bosch Professional e qualche altra possiamo raggiungere un tale livello di accuratezza, di affidabilità, di piacere, di uso. Ma in realtà con tutto quello che è il resto del panorama attuale difficilmente penso che si possa arrivare a un piacere di utilizzo così come lo si raggiunge con una DeWalt. Allora, veniamo a noi. Questo è il modello brushless, da qualche parte c'era la sigla, DCG405. È il modello da 125 mm di disco, 18 volt di batteria, batterie da 5A in questo caso ma diciamo che anche quelli da 4A assolutamente non sfigurano, brushless, quindi senza spazzole. Un motore senza spazzole che chiaramente ottimizza l'utilizzo della potenza delle batterie rendendo contro quello che è comunemente un 70% di motori a spazzole fino a un 95-98%. Quindi, minor consumo, maggior resa, maggior velocità di taglio e soprattutto maggior sicurezza perché molto spesso proprio nei cambi di batteria, di dischi, eccetera, c'è il momento di comunque pericolo per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti. Come nel complesso? Beh, avete capito che sicuramente la mia recensione va a essere positiva e prima di iniziare proprio questa recensione mi sono messo anche su Amazon dove l'ho comprata a guardare un pochino quelle che erano le opinioni di tutti coloro che l'avevano comprata e realmente ho faticato a trovare delle recensioni negative per non dire che non ne ho trovate proprio. Forse qualcuno si è lamentato di piccole cose ma lui stesso ha detto a fronte di quello che è il totale di questa smerigliatrice, proprio sono contento. Queste sono state le frasi conclusive di chi è stato realmente più critico. E devo dire che anch'io posso esprimere lo stesso giudizio favorevole, mi posso andare a cercare il pelo dell'uovo in piccole cose tipo l'assenza di molla respingente della batteria. Vedete, quando premo qui la batteria non si estrae da sola come magari accade su alcuni utensili come i Black & Decker. Vedete che qui al premere hanno un sistema di estrazione aiutato da due molle all'interno della slitta ma in questo caso voglio dire questa è una quisquilia, una cosetta veramente da poco e magari insomma nelle versioni a seguire The World andrà ad aggiornare anche questa piccola caratteristica se il brevetto The World, scusate Black & Decker magari può essere passato qui. Sono cose veramente di poco conto. Fatto sta che iniziando proprio dalla batteria la andiamo a estrarre se ce la faccio, ok, allora la batteria è come oramai lo standard di quello che si utilizza per questo tipo di utensili una batteria di ioni di litio 18V, qui la indicano con 18 non con 20 come altri fanno 5A e come oramai di consueto ha anche un indicatore di carica praticamente premendo un bottoncino ci dà 3 LED che ci indicano lo stato di carica della stessa. È bella massiccia, non troppo pesante, chiaramente compatibilmente a quello che l'amperaggio le batterie sono più o meno grandi. Qualità dei materiali assolutamente buona, il tastino è scorrevole, su questo non si può dire proprio nulla per quanto riguarda la batteria. Andando a prendere invece il corpo macchina che ve lo dico a fare è una bellezza, è una bellezza sia per l'impugnatura antiscivolo che è così sia per quanto riguarda il corpo macchina sia per quanto riguarda il maniglione. Impugnatura che ovviamente diminuisce sensibilmente quelle che sono le vibrazioni che giustamente uno strumento del genere va a passare all'utilizzatore finale e soprattutto contribuisce anche a una presa assolutamente forte, cioè nell'afferrare questo tipo di strumento non si ha assolutamente la sensazione di qualcosa che può essere sfuggente. Se da un lato questo è assolutamente piacevole, dall'altra parte bisogna comunque sempre ricordare che si tratta di uno strumento, di un utensile altamente pericoloso proprio per via della sua natura tagliente. Quindi non fidatevi troppo, non andateci così in maniera sbarazzina nell'utilizzo, continuate ad utilizzare questa macchina comodissima con tutte le accortezze e gli accorgimenti del caso. Questo non deve essere un motivo di trascurare la sicurezza ma assolutamente una comodità in più, ragion per cui fateci sempre caso. Allora, dal punto di vista della qualità costruttiva, quelle che sono le giunzioni delle scocche e di tutti i componenti in plastica, metallo, che lo compongono, non si può dire assolutamente nulla di che. Il pulsante d'accensione, stessa cosa, assolutamente fluido, duro quanto basta, non troppo, e ha anche un sistema, come oramai da sempre ci hanno abituato, di sgancio rapido, per cui pigiando leggermente sul pulsante si va a disconnettere la macchina. Ha delle cose che non si vedono immediatamente ma si apprezzano durante l'utilizzo, così come il freno elettronico del motore, vale a dire che quando accendo la macchina e la vado a spegnere, il disco rallenta molto molto più rapidamente di quelle che sono le vecchie versioni di smerigliatrici che finora mi erano capitate per mano, che per parecchi secondi si ritrovavano in disco a girare, ovviamente uno, che dire, la devi mettere giù perché devi fare una correzione all'oggetto su cui stai lavorando e perdi tempo perché non la puoi mettere realmente giù quando ancora il disco è in movimento rapido, perlomeno. Correttamente bisognerebbe mettere la giù quando il disco è completamente fermo, però ovviamente quando già sta rallentando sei là che l'appoggi e fai tutt'altro. In questo caso devo dire che la DeWalt fa bloccare rapidamente il disco e questo sicuramente è un guadagno di tempo, un miglioramento della fruibilità dello strumento e anche della sicurezza perché sempre uno sta facendo un lavoro comunque faticoso e la stanchezza chiaramente porta a commettere errori che possono mettere a repentaglio l'incolumità dell'operatore. Il fatto che tutto sia comodo, il fatto che tutto sia ben fatto sicuramente contribuisce alla salvaguardia proprio dell'utente finale che sta utilizzando l'apparato. Per cui, DeWalt Brushless 18V XR, il voltaggio della batteria consente un pieno utilizzo anche su tondini di ferro pieno, quindi insomma il limite è dato unicamente da quello che è l'usura del disco, cioè se il ferro che andiamo a tagliare è particolarmente grosso, particolarmente corposo, la macchina non si va di certo a fermare, non si sente soffrire in un taglio importante, in un taglio particolarmente gravoso, chiaramente ciò che limiterà la macchina è sempre e solo in questo caso il diametro del disco che quando arriva a consumarsi chiaramente necessita di essere cambiato, ma la macchina di per sé assolutamente non incontra ostacoli. L'impugnatura, questa qui sulla mano sinistra, può essere posta sia a sinistra che a destra, manca in realtà l'impugnatura centrale come in alcune macchine si può trovare, però diciamo per via del corretto utilizzo alla fine è bene avere o da un lato o dall'altro la maniglia perché trattandosi di un movimento rotatorio che chiaramente ha un senso prestabilito, andare ad avere una maniglia qua perpendicolare al disco comunque non aiuta nella stabilità perché chiaramente si riesce ad avere più forza con questa presa o con quest'altra e non se la maniglia sta qua sopra. certo è che nel momento in cui abbiamo difficoltà a raggiungere un pezzo magari ci potrebbe risultare utile anche quest'altra opzione ma qui comunque non c'è è inutile parlare di ciò che non c'è quando d'altro canto abbiamo comunque tanto da volutare in questa macchina. Cosa simpatica, devo dire, è parecchio e anche questo filtro, vedete? qua, laddove molte altre macchine hanno delle aperture per l'aerazione del motore DeWalt ha pensato bene di mettere dei filtrini metallici vedete qua c'è una vitina e qua c'è questa griglia, questa finestrella con una trama metallica molto molto, una retina metallica molto molto fitta che comunque assicura l'impossibilità a particelle particolarmente grosse ma devo dire anche le piccole, devo affermare di penetrare nella zona motore per cui anche questo contribuisce a salvaguardare la bontà e la durata di quella che è la meccanica e l'elettronica della macchina oddio, meccanica che comunque consente la DeWalt consente all'operatore di andare a fare la manutenzione tramite questo sportellino vedete qua c'è uno sportellino di plastica proprio dietro al disco dove è possibile rimuovere quattro viti che se non erro, insomma, sembrano delle torx ci sono quattro vitine che vanno a stappare questa placchetta di plastica e qua sotto ci sono anche gli ingranaggi ingranaggi che vanno ovviamente ingrassati periodicamente almeno una volta all'anno diciamo comunque una finestrella che è buona come finestra di ispezione ma è altresì un tappo proprio per andare a rabboccare a rimettere, a lubrificare quelli che sono gli ingranaggi che maggiormente lavorano in questa macchina quindi anche dal punto di vista della manutenzione in corso d'opera in corso di lavori c'è la possibilità di farla chiaramente non durante i lavori ma tra un lavoro e l'altro voglio dire andiamo a vedere come sta a grasso il mio piccolino che va macinando con gli ingranaggi quindi da questo punto di vista hanno pensato proprio a tutto quindi la manutenzione è assolutamente pratica e lodevole altra cosina molto molto interessante è il discorso della rimozione del disco qui c'è un dado di blocco del disco che può essere rimosso sia con una chiave che ci danno in dotazione che assomiglia a una brugola anzi ve la faccio vedere in realtà più che assomigliare a una brugola è una brugola allora questa è la chiave che ci danno in dotazione per la rimozione del bloccadisco qui ci sono due due incavature proprio esagonali che ci danno o l'opportunità di inserire la chiave e dare una girata quindi non ci sono i classici due forellini circolari per la classica chiave o semplicemente lo facciamo a mano vedete qua dietro c'è il pulsantino per il blocco del disco così è bloccato e io a mano ecco voilà molto molto facilmente lo posso andare a sfilare perché? perché hanno messo un sistema molto particolare che consente con un minimo sforzo di andare a svitare anche il dado bloccadisco che normalmente si piantava e aveva bisogno di una chiave con due dentini che si infilavano particolarmente lunga per andarla a sbloccare in questo caso non l'ho ancora smontata dentro questo dadino c'è un sistema di sblocco di mollamento facilitato quindi una bellezza perché praticamente se ce lo dobbiamo portare fuori per lavoro questa smeridiatrice con l'alberino misura M14 non ha nemmeno bisogno né di questa né di una chiave a brugola né della classica chiave con i due dentini per andare a cambiare i rischi questo è sicuramente una bella innovazione ed è una delle prime ragioni per cui felicemente l'ho amata fin da subito per tutto quanto il resto che ve lo dico a fare? nel momento in cui la si utilizza la facilità di uso ti fa entrare immediatamente in confidenza ha delle vibrazioni che praticamente non ci sono minime assolutamente il fatto di non avere il cavo come le consuede 220 pure questa è una bellezza ma dovendo confrontare proprio questa macchina con altre macchine simili a batteria la differenza qualcuno potrebbe dire ma tutte quante tagliano sì ma questa taglia in maniera differente taglia tanto che ti sembra realmente di non averla tra le mani non percepisci questa è una colpa come vi dicevo prima forse non percepisci la pericolosità di un strumento del genere ma sicuramente se l'utilizzatore se ne ricorda semplicemente percepisci uno strumento che gli taglia come il burro qualsiasi cosa realmente per cui lì sì che si vanno a motivare gli oltre 300 euro di costo perché hai delle batterie di qualità una macchina di qualità che con motore brushless ti fa risparmiare sulle batterie e quello che si risparmia te lo dà in resa di taglio e di tagli l'affidabilità DeWalt è assolutamente indiscussa o qualche altro utensile di questa marca vecchio di 20 anni e pure lì insomma lavorano che è un piacere ora che cosa accade dopo questo acquisto a batteria che molto probabilmente mano a mano che andrò a sostituire i miei altri utensili avendo già batterie che costano costano un occhio ecco senza mezzi termini ve lo dico una batteria DeWalt costa attorno ai 50 60 e passa euro che è tanto soprattutto per le mie tasche beh chiaramente avendole l'intenzione quello che accadrà in futuro nel mio garage sarà farmi prevalentemente utensili DeWalt potendo sfruttare l'intercambiabilità di questi con le batterie che già posseggo cariche a batterie stesso discorso ho voluto che fosse un DeWalt originale e non un compatibile non si sa mai se insomma mi ritrovassi batterie e cariche a batterie che fanno a cazzotti perché non si piaccia insomma poi chiaramente ad inficiare il mio lavoro ci starebbe un attimo in questo modo diciamo che facendosi soffrendo ecco perché si tratta di soffrire pagando una volta quello che è lo scotto dell'originalità dei componenti e di tutto quanto il resto diciamo che aggiovarne ovviamente è quello che è il risultato finale il lavoro la sicurezza e soprattutto il piacere di esecuzione con questo tipo di macchinari che farò in futuro beh qualcosa ce l'ho già in programma qualche nuovo acquisto sempre giallo e nero mi sarebbe piaciuto chiaramente andare a utilizzare andare a comprare anche macchinari miluocchi perché insomma la miluocchi perlomeno per il prezzo costa anche più di di devolt caratteristiche performance siamo lì a volte vedendo video di altri youtuber devolt addirittura è superiore a miluocchi c'è chi dice c'è chi comunque è innamorato della marca rossa e nera ma insomma siamo come mi piace dire a fare i confronti tra la velocità di una ferrari e lamborghini quindi siamo con due prime donne che in assoluto vanno a staccare brutalmente il gruppo di inseguitori che sta di dietro e c'è tanto ma tanta distanza che stare a dire chi è meglio dell'altro realmente diventa difficile quindi che ve lo dico a fare se ve la consiglio a occhi chiusi guardate mi stavo dimenticando di un'altra caratteristica bellissima che è la possibilità di girare il carterino di proiezione qui dietro proprio con il dito si va a spingere una mollettina e questo carterino vedete senza dover utilizzare nessuna chiave o cacciavite c'è la possibilità di farlo scorrere nella posizione a noi più congeniale aspettate che vi rimuovo il disco ve lo faccio vedere per bene perché una volta che giustamente siete sul canale la cosa la volete giustificata è vedere per bene allora qua dietro c'è questa questa levetta lungo queste questi quadratini ricavati nel cartellino nero si va a far scorrere il nostro il nostro carterino vedete da una parte all'altra si può anche smontare io comunque preferisco rimettermelo come stava prima ora ce la faccio no mi converrà farlo dopo a camera spenta in ogni caso ragazzi è una bellezza non c'è niente che si possa dire ragion per cui con questo è tutto in descrizione troverete il link ecco ora questo è un fastidio ci dovrò bestemmiare due minuti e niente seguitemi iscrivetevi al canale e poi ci becchiamo per ulteriori recensioni valutazioni e quanto necessario ok ciao e alla prossima si è rotto si è rotto come faccio ancora ancora il finanziamento Amazon in corso si è rotto come faccio no tranquilli ho scoperto qua ci sono due tacche dentro al carterino due tacche corrispondenti qua sul corpo macchina semplicemente si mettono in corrispondenza si abbassa la levetta e voilà vedete non si è rotto ci stavate gufando vero ok tutto quanto risolto ragazzi di nuovo un saluto e alla prossima ciao